Il nostro discorso dell'evoluzione della fine del primo decennio di Kandinsky verso la prima definizione del suo acquarello astratto che lui probabilmente ancora non sapeva fosse astratto parte oggi da un'opera benavigliosa che adesso noi possiamo vedere si tratta di Kandinsky, naturalmente il paesaggio invernale del 1909 quest'opera pur mantenendo ancora dei tratti di figuratismo evidenti però rappresenta un ulteriore sviluppo ed evoluzione di quella che la percezione di Kandinsky nei confronti della disgregazione dello spazio del colore e soprattutto della composizione dei colori lo porterà naturalmente a proseguire il suo strepitoso percorso innanzitutto un paesaggio invernale che sembra tutto meno che freddo e sembra meno che freddo nonostante sia realizzato con colori sostanzialmente freddi la prospettiva incomincia ad annullarsi però Kandinsky ci offre questo meraviglioso sentiero di neve rosa circondato da, accompagnato insomma sui suoi lati da alcuni alberi evidentemente desfogliati dall'inverno verso il punto nevralgico dell'opera che non è altro che quella casetta gialla con quelle finestre che non sono altro che piccoli tratti neri e che ci fa anche chiedere se si tratta di un'alba, di un tramonto ma questo poco importa notiamo come le forme siano già state molto semplificate triangoli, semicirconferenze, linee curve, linee dritte incominciano a comporsi in questa opera raccontandoci per l'appunto il sentimento che Kandinsky provava nel cercare a tutti i costi quello che è la disgregazione del tempo di cui abbiamo parlato ma anche e soprattutto nella disgregazione dell'avvicinamento dei colori sotto un aspetto figurativo e realistico allora queste mie lezioni sono un pochettino navigo un po' a vista nel senso che quello che cerco di fare è di avere delle sensazioni cercare di capire se le cose possono essere confrontabili e la prima opera che mi viene in mente guardando questa opera di Kandinsky per l'appunto Paesaggio Invernale è Donna con la riga verde di Henri Matisse sì, un fauve, ancora un fauve qualche studente mi ha detto parli sempre dei fauve io sono appassionatissimo di questa corrente artistica e sicuramente farò una lezione specifica Matisse in quest'opera che è a Copenhagen ritrae sostanzialmente la moglie il titolo originale è il ritratto di Madame Matisse e vediamo subito come evidentemente la prospettiva ormai sia considerata del tutto inutile e la composizione dei colori apparentemente completamente dissonante in realtà è molto interessante perché la parte illuminata è quella di sinistra la parte in ombre è quella di destra già questo è difficile da percepire pensando a un'opera che sia fatta con dei chiaroscuri oppure che sia tendenzialmente concepita all'interno di uno spazio ma questi colori sono interessantissimi perché come nell'opera precedente sono soprattutto colori freddi questi viola di Matisse questo verde acido la stessa riga verde dell'artista che tende in maniera in questo caso quasi astratta a dividere, a sottolineare la divisione fra le due parti non può che ricordarci l'opera precedente per strade completamente diverse per un tema completamente diverso ma l'anima fove di Kandinsky è indiscutibile e questa è una mia teoria probabilmente è una mia sensazione ed è per questo che io insisto nel confrontare opere di questo tipo se ripensiamo adesso le rivediamo insieme all'opera precedente vediamo questo utilizzo già con uno stile puntinistico che ci ricorda sicuramente anche influenze dei puntinisti Serot o come anche altri artisti italiani proprio del movimento divisionista e ci ricorda che difficilmente esistono montagne blu difficilmente esistono montagne triangolari con tratti di rosa quasi shocking che difficilmente la neve può essere gialla, grigia e rosa nel contempo che la parte che riguarda il vegetativo che vedete a sinistra scuro, questa macchia accompagnata da questi camei rossi sostanzialmente rende un quadro prettamente dipinto con colori freddi un quadro caldo nonostante sia il tema evidentemente invernale allora per riuscire a contenere un po' i tempi e parlare sempre di più di questo sempre di questo periodo di Kandinsky ecco adesso l'immagine la potete vedere vi presento di Kandinsky Interior of My Dealing Room del 1909 la prima cosa che mi viene in mente guardando quest'opera è pensare all'espressionismo puro ma questo Interior of My Dealing Room mi ricorda anche esso mi richiama senza dubbi probabilmente seguendo quella che è la mia passione è il mio sentire in questa cosa un'altra opera di Harry Matisse che è Finestra aperta del 1905 ecco adesso la vediamo da sola Matisse ha dipinto tantissime finestre tantissime viste delle finestre e evidentemente la tavolozza non è molto diversa da quella che egli ha utilizzato per realizzare la sua opera donna con la riga verde ma ora che noi affianchiamo le due opere le ultime due di cui ho parlato My Dealing Room e La Finestra troviamo sicuramente delle immediate assonanze innanzitutto sulla sinistra l'opera di Kandinsky prosegue per vicacia il tentativo di disgregare lo spazio in fondo anche il tempo in un ambiente che è sì strutturato su uno spazio tridimensionale ma che ha ormai completamente annullato la prospettiva questo lo si può notare senza alcun dubbio io noto anche alcune cose che sono mie considerazioni l'utilizzo delle ombre colorate di impressionistica memoria mi sembra di poter dire che Kandinsky fosse veramente un artista tutto tondo perfettamente in grado di ispirarsi senza alcuna remora nel captare le impressioni i lavori di ciò che tutte le persone che lo circondavano proprio per insistere in questa sua ricerca l'opera di Matisse meravigliosamente estiva evidenzia una prospettiva che ormai non esiste più ripropone le campiture di colore molto 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 simili rispetto alla sua opera Donna con la riga verde ed è sicuramente un quadro diverso dal dining room di Kandinsky con intenti diversi ma è evidente come anche l'apparente indecisione del tratto che in realtà non è altro che una rapidità di esecuzione quasi impressionistica sotto l'aspetto percettivo è come se fosse un solo singolo momento di un istante di un tempo di Planck per cui le barche sono dove un secondo dopo non lo saranno più la luce non sarà più dopo che un mezzo secondo dopo verrà verrà come si dice spostata ed è comunque un quadro che ci dà un'impressione netta e specifica di quel momento lì realizzata con alcune capacità tecniche che io trovo strabilianti soprattutto nel riflesso sui vetri dello scenario che egli vuole rappresentare nella capacità poi di Matisse di lavorare sul nero sono strabilianti le sue viste dal balcone della costa d'azzurro in cui con un bianco, un azzurro e un nero pece ci offre strepitose riflessi di soli estivi pacificatori e assolutamente appartenenti a quel territorio a sinistra Kandinsky ci racconta di una disgregazione del colore di una composizione di rosa, rossi, verdi, verdi marci e quindi comunque una naturalissima concomunanza di colori gelidi e allo stesso tempo caldi ed è, secondo me, My Dealing Room il passo ulteriore e quasi definitivo verso quella che sarà poi la sua strepitosa capacità di virare con velocità e con istantanea capacità di assegnare a singoli e semplicissimi tratti quali la linea, il triangolo, il cerchio e il rapporto con il loro colore che lui utilizzerà per navigare rapidamente non più a vista verso quelle che saranno le ultime opere che saranno ancor più ancor più astratte di quanto ci sarebbe ci si sarebbe potuto aspettare da tutte le opere che poi dal 1911 in poi fino alla sua morte hanno contraddistinto la sua strepitosa capacità espressiva quindi io concludo questa seconda parte esimi studenti e vi do appuntamento al più presto per continuare il nostro cammino con Kandinsky che credo si esaurirà ancora in un incontro che spero sarà risolutivo non per comprendere l'entità globale dell'opera dell'artista ma alcuni piccolissimi tratti della sua esperienza percettiva tecnica e lavorativa con questo vi saluto affettuosamente e vi do appuntamento alla prossima puntata